Rappinato di tutto quello che aveva, è ferito alla gola con un taglierino mentre si trovava a Fasano per affari. E' terminata con un taglio alla gola ma poteva avere conseguenze ben più gravi l'azione criminale nei confronti del cinquantenne svizzero Andrea Vanni Gori che intorno alle 22 di venerdì scorso dopo aver parcheggiato la sua Fiat 500 ed essersi avviato sulla strada è stato bloccato da tre rapinatori armati di taglierino proprio di fronte alla caserma dei carabinieri di pezze di Greco mentre rientrava al bed and breakfast Donna Lucrezia dove alloggiava. I malfattori hanno inizialmente strattonato e picchiato pesantemente il cittadino svizzero facendosi poi consegnare con il taglierino puntato alla gola il denaro che portava con sé l'orologio che aveva al polso del valore di circa 40 mila euro e le chiavi dell'auto con la quale sono poi fuggiti. In un primo momento l'uomo ha provato a reagire e di tutta risposta ha ricevuto un fendente alla gola che lo ha ferito fortunatamente in maniera non grave. I rapinatori sono poi fuggiti per le vie della città con l'auto della vittima. Il cinquantenne è stato immediatamente soccorso e trasportato nell'ospedale di Fasano dove è stato considerato fuori pericolo e giudicato guaribile in 15 giorni. Sull'accaduto indagano i carabinieri di pezze di Greco.